Direttore sportivo Massimo Donofrio, che squadra è Massimo? Domanda più scontata, banale, ma inevitabile. È una squadra che deve fare un campionato di vertice obbligatoriamente, nel senso che siamo ancora un po' dispiaciuti, forse anche un po' frastornati per quello che c'è stato l'anno scorso, l'ultima giornata ci ha visto retrocedere e diciamo che siamo partiti con la grinta di voler recuperare subito questa categoria e quindi abbiamo allestito una squadra che riteniamo possa riuscire a fare il salto. Chiaramente poi sarà il campo che ci dirà se è quello che abbiamo pensato e è stato giusto. Squadra competitiva che vuole, giustamente dici tu, tornare subito nel campionato di A2 e soprattutto, Massimo credo che siete d'accordo con me, rigenerare, ricreare entusiasmo nella città che l'ha perso a strada facendo. Sicuramente e non è neanche un caso che abbiamo cercato di creare un gruppo anche relativamente giovane perché sono ragazzi tra il 99 e il 2000 e i più con degli innesti di giocatori un po' più datati, esperti che nell'insieme credo possano creare veramente un gruppo vincente e questo poi diciamo di solito quando poi ti affidi un po' ai giovani l'entusiasmo del paese, della cittadina automaticamente si esalta ulteriormente, credo io. Massimo, hai detto, ho citato i datati, chiudiamo con una battuta inevitabile, c'è anche un nonno, tra virgolette, ma averne di questi nonni come Marshall che sicuramente fa la differenza, benvenuto. Beh, sicuramente, lui è un grande giocatore e ancora da un certo punto di vista siamo qui anche meravigliati, se vogliamo, nel pensare che abbia scelto noi. Forse ce lo meritiamo perché nel panorama delle squadre italiane, al di fuori della Superlega, restiamo, credo, sempre una delle società più di riferimento, importanti e quindi la sua scelta alla fine è ricreduta su di noi, nonostante fossero in diverse società a volerlo.